In marmolada continuano le ricerche dei dispersi nella frana caduta domenica a causa dello scioglimento di parte del ghiacciaio. Gli operatori hanno schierato quattro droni, due per scandagliare la parte alta del fronte e due per quella medio-bassa. Il campo base è stato installato al rifugio Capanna Ghiacciaio e il soccorso alpino ha potuto contare sull'apporto di una squadra dei colleghi della Guardia di Finanza. Il bilancio provvisorio conta sette vittime, otto feriti e cinque persone disperse. Diversi escursionisti inizialmente dati per scomparsi. Si sono fatti vivi tra lunedì e martedì. Tutte le macchine parcheggiate al passo Fedaia sono inoltre state abbinate ai dispersi e alle persone ritrovate. I familiari hanno inoltre riconosciuto l'ultimo degli otto feriti coinvolti nel crollo che non era stato ancora identificato. Sono state anche riconosciute ufficialmente quattro vittime, tutte di nazionalità italiana mentre altri due corpi sono in fase di riconoscimento. Tutti i punti di accesso alla montagna sono chiusi per motivi di sicurezza e dunque interdetto anche l'accesso all'area compresa tra Punta Serauta e la forcella Marmolada. Qui si accede dalla Val Contrin secondo quanto previsto dalle ordinanze dei tre comuni di Canazzei, San Giovanni di Fassa e Rocca Pietore. Sul posto sono stati installati cartelli di divieto di accesso e transito ed è stato inoltre disposto il presidio di passo Fedaia da parte di Polizia Locale e Corpo Forestale del Trentino. In giornata nel teatro della Valanga sono stati ritrovati ulteriori resti ed effetti personali a preoccupare i soccorritori, le precarie condizioni del terreno nel quale si trovano a operare.